Buongiorno, mi chiamo Alessandra Verona, sono qui per Gazei, l'azienda Friudana che produce accessorio e abbigliamento in Friuli, un posto improbabile perché da noi non c'è molta futura in questa direzione, sicuramente speriamo sia un futuro perché il tessuto imprenditoriale qui ha moltissime capacità. Una curiosa associazione che la nostra azienda che lavora in un settore abbastanza classico italiano si è inserita in un programma di assoluta innovazione, forse perché lo facciamo in maniera diversa, l'approccio è, siamo entrati alla porta di servizio in questo nostro lavoro e siamo cresciuti velocissimamente, forse con un'altra mentalità, cercando di vedere dove arrivare con il prodotto, cosa cerca la gente, cercando di dare così un'immagine, un'idea che prima non c'era, come non ci sembra.